Presidente Sebastiani, allora è arrivato questo pareggio con il Frosinone, gara simile possiamo dire a quella con il Perugia, grande primo tempo, Bardi 4-5 parate quasi miracolose e poi nella ripresa il calo, però nel primo tempo si è visto un grande Pescara. Sì, sì, sono d'accordo completamente con la tua analisi, speriamo che prossimamente magari si veda un primo tempo diverso e un secondo meglio, perché sono due o tre partite che noi facciamo veramente, iniziamo molto bene qui in casa, però non riusciamo a portare a casa l'intera posta. Però sicuramente se guardiamo il punto contro chi l'abbiamo ottenuto è un punto che ci fa guardare con ottimismo nell'immediato futuro. In questo momento si stanno giocando tutte le altre partite, quindi ovviamente non si può parlare di classifica e di risultati delle dirette concorrenti, però con la politica dei piccoli passi probabilmente si riuscirà alla fine ad arrivare a questo traguardo, perché ci sono tanti scontri diretti? Ma sì, come ci sono per noi ci sono anche per gli altri, il Venezia ha tanti scontri diretti, il Perugia ha anche, credo che ce l'abbiano tutti gli scontri diretti, però è evidente che noi dobbiamo guardare a noi, quindi intanto cerchiamo di fare i risultati, un bel risultato oggi pieno ci avrebbe probabilmente, con tutta probabilità, buttato fuori da questa mischia. I dati dicono che nel giorno di ritorno, prima e dopo il lockdown, il Pescara ha vinto solo quattro volte, questa squadra nella seconda parte di campionato ha incontrato delle difficoltà nel raccogliere l'intera posta, secondo il presidente del Pescara perché? Perché purtroppo abbiamo fatto come tutte, quindi non è una scusa solo per noi, come tutte abbiamo avuto il periodo di fermo, ma in più noi venivamo da un periodo dove c'erano tanti giocatori fuori che non si sono né allenati né hanno recuperato il ritmo gara, se penso a Pucciarelli che praticamente sono cinque mesi che fuori, il ragazzo sta facendo il massimo, però è chiaro che qualche difficoltà in più la incontra rispetto ad altri, per cui adesso non è importante quanti punti abbiamo fatto, adesso in questo momento è importante fare i punti che servono da qui alla fine per mantenere la categoria. Lei parlava di un singolo in particolare, Pucciarelli, io vorrei spendere invece due parole per due giocatori che questa sera sono sembrati davvero in grande giornata, Zappa e soprattutto Clemenza, questo ragazzo che continua a mostrare di avere grandi doti. Zappa secondo me non è più una scoperta, Zappa credo che sia in assoluto in questo momento il giovane più forte che c'è in giro e per quanto riguarda Clemenza, Clemenza non lo devo scoprire io, Clemenza è un giocatore che ha delle doti importanti, anche lui ha bisogno di continuità perché poi alla fine se non giochi i 90 minuti fai fatica a mantenerli, quindi speriamo che adesso ci sarà una settimana piena per recuperare, una settimana tipo normale, speriamo che tutti quanti possano recuperare al meglio e andare a fare una grande gara a Trapani. L'altra volta aveva detto quando c'erano ancora le grottaglie sulla panchina di Pescara di essere un po' arrabbiato perché Palmiero non giocava, questa sera Palmiero è stato in panchina, è arrabbiato il Presidente? No, no, io ero arrabbiato non solo perché Palmiero non giocava, perché cambiavamo modulo di gioco ogni giorno, perché è una cosa diversa, poi è chiaro che nel cambio del modulo magari uno tiene fuori, stasera per scelta tecnica non ha giocato ma quelle sono scelte tecniche che fanno gli allenatori e non ho mai contestato una scelta tecnica. Presidente, per chiudere le ultime due domande, la prima ovviamente sulla gara di venerdì prossimo al provinciale di Trapani, incontrerete una squadra che è ancora in corsa, che tra l'altro è stata penalizzata di due punti e probabilmente spera ancora di vedersi restituiti questi due punti. Al di là di questo è una gara difficile, ma il Pescara di questa sera, soprattutto il Pescara del primo tempo di questa sera, ha tutte le possibilità per fare risultato al provinciale? Se non fai i risultati poi è giusto che meriti di andare da un'altra parte, per cui devi giocare come hai giocato questa sera, con quello che mi piace di questa squadra, in questo momento è anche un pizzico di cattiveria in più che sta mettendo, che è secondo me frutto del lavoro del suo allenatore. Per chiudere l'ultimissima, avete fatto reclamo per quanto riguarda la squalifica di Galano, contate di vedere ridotte da 3 a 2 le giornate di stop per il vostro giocatore? Ma per quello che è successo anche uno sarebbe troppo, però è chiaro, ne abbiamo prese 3 di giornate e speriamo almeno di averne 2.